L'obiettivo della scuola di Pradissime è quello di riuscire a vedere e a sentire tanti bambini a parlare la nostra bellissima lingua. Come prima storia ce ne andiamo a Melbourne oggi e andiamo a conoscere una siciliana, si chiama Giusy Galbo. Lei ha deciso che la sua missione è quella di insegnare l'italiano ai bambini australiani e lo fa con tantissima energia, allegria ed entusiasmo. Buona missione, noi ci vediamo con la prossima puntata di Speciale Commissione. E adesso ci spostiamo in Australia, chissà, Magellano ci è andato abbastanza vicino, diciamo così. A Melbourne c'è una scuola materna che si chiama Bravissimi, dove i bambini imparano l'italiano giocando. E a fondare questo istituto è stata una siciliana di Siracusa che si chiama Giusy Galbo. Stefano Corti l'ha incontrata per noi, vediamo. Buongiorno, io sono Giusy e sono un istituto.